Sta per scattare il semaforo, partono praticamente e adesso vediamo chi si aggiudica questa seconda semifinale in venta estracaminale a Spettino Quanto è l'ultimo coraggio, vediamo dunque a prima metà del tracciato Ellera tenta il sorpato sul calcio, cerca di guadagnare la seconda posizione invece non ci riesce, quindi andiamo a capitano, partono, Elera Decisalmente in causa Elera, ricordiamo che Elera è alla sua prima gara ed è Scimera nel fuoco, in pianta connessione e la rispondenzione Quindi abbiamo Camitanio, Caudio, Peritosturia e Ellera Vediamo che Colosimo cerca di far retrocedere l'Era, ma non ci riesce Ci riesce in questo istante, per cui Colosimo è l'Era in dietreggia Sembra che piccola, proprio mio, però non sosteggiano che comunque ha la sua prima gara Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti capitanio, cance, fitta sucia, fitta sucia, fitta sucia un'ultimo giro un'ultimo giro, attenzione fitta sucia Grazie a tutti. Grazie a tutti.